Alexander Schaefer, direttore sportivo del team Astana. L'infortunio di Aru, il forfait di Aru prima di questa gara, ha costretto a un cambio di programmi la vostra squadra? Sì, diciamo che Fabio ha avuto questa inconvenienza, speriamo che si rimette il più presto possibile perché il nostro capitano per il Giro d'Italia abbiamo puntato tutto sul di lui per la prima parte della stagione, soprattutto per il Giro d'Italia abbiamo cercato di fare la squadra per lui, abbiamo rinforzato, è successo questo qua e purtroppo succede, però speriamo bene che riesci a recuperare il più presto possibile per il Giro d'Italia. Questo inconveniente vi costringerà a un cambio di programmi appunto in vista della Corsa Rosa? Ma il cambiamento, adesso vediamo, prima di tutto deve rimettersi perché per adesso ancora non sta tanto bene, penso che fino al Giro d'Italia non fa nessuna gara, però andiamo direttamente al Giro d'Italia. Ah quindi direttamente al Giro d'Italia? No, perché se fosse uno o due giorni, però per adesso non ancora sta bene, c'è inutile, penso che andare a fare ramandia perché peggio basta. Mentre per quanto riguarda il Giro del Trentino Melinda, cambia l'approccio della vostra squadra, Diego Rosa diceva attaccheremo tutto il tempo. No, ma qua abbiamo la squadra di Giro d'Italia, che i ragazzi stanno bene, con sette corridori, a parte Diego Rosa che sta attraversando un buon periodo, c'è anche Dario Cataldo, c'è Landa che ha vinto dopo i paesi baschi. E vediamo cosa riusciamo a invitare, perché qua sono due giorni veramente duri, sono due squadre che diciamo che Sky e G2R, che sono squadre attrezzate per questo tipo di gara. Sì, riusciamo a invitare qualcosa, sicuramente ce ne stiamo lì a aspettare, a guardare. Sai, Rosa quest'anno ha dimostrato andare forte, però non sappiamo ancora il suo limite, perché è il primo anno che abbiamo in squadra, ha fatto poche gare, però tutte queste gare che ha fatto è sempre dimostrato andare forte. Adesso vediamo che qua è partito come capitano, visto che non c'è Aro, vediamo dove può arrivare. Però con calma, diciamo, invitare qualcosa.